S.O.P.I.S.C.E.A.M. Bentornati a questa nuova puntata del grande Gus SP contro il mondo. Aspetta, ma eravamo contro i boss? Io non l'ho seguito. Nooo.. Non è di lì che si... oh cazzo... di lì vai contro crash ma... Eh che cosa si usa? Womboborler Contro crash bisogna usare le nitro Non mi ricordo più qual'è Non mi ricordo più qual'è Era una citazione a Crash Bandicoot ma ok Crashman, bombe, mi sembrava... Airman E dov'è? Ah la Vai Wombar Non ti ricordi proprio un cazzo? Vai sparagli Stupido Wombar a Tronblone Grazie Sì P Perché lo rimetti su P? Nooo Chi è quello? Metal Man Devi usare Bubble Man Nooo Devi usare Aristotele Nooo Quick Man forse Uomo veloce Sai che non mi ricordo assolutamente niente Ne do un casino che non c'è Sì è lui Sì è lui Ok Ok È troppo figo Sì Ci siamo presi una vacanza e adesso siamo pronti per fare Uomo TNT? Che è senza faccia No lui devi usare Crashman Ti ricordi? Che mi dicevi l'altra volta Dai lui è lento come una madonna e devi lanciargli le bombe Sì ma non farti colpire Nooo Papà Salta Saltalo Salta Salta Scoppia Eh adesso ti colpisce No ok Ah sei certo Tu non sei capace a saltare o No O cose così Io vado in faccia Quick Man Flashman Così gli togliamo metà vita facile facile Molto lenta Sì Bravo Aspettalo di lì Ah E poi vai di Metalman Metalman è il più forte di tutti Non è vero sei un craccio Ok Era per scherzare Non è vero Perché non Non stai agli scherzi Adesso sai che Sai se vieni Non sai se venivi trasportato Teletrasportato senza prendere la vita Ero fegato Era una stronzata Si Oh ma bolla Dove è l'accendino? Dove è l'accendino? Non è l'accendino che devi usare Usarò questo Ce l'ho detto No aspetta No Vedi? Fuoco acqua non vanno Legno Non è Non funziona Non funziona perché sei sott'acqua No aspetta Non funziona niente A parte Bubble Man in acqua Metalman Metalman te l'ho detto che è il più forte di tutti Il metal lo tirerà giù Metalman è forte anche contro Woodman Te lo ricordo Woodman vieni qui Woodman è quello in legnavolo Vieni qui Ti faccio al culo uomo legno Uomo legno Uomo tamburo Aspetta Salta Aspetta aspetta Salta Ok No no che vieni tras... Ma cazzo Perchè te ne stai lì sul teletrasporto anche te? Ma perchè non mi vedevo? Airman Metallo Non metallo Non metallo Devi usare qui... Kman Uomo veloce Si E adesso abbiamo perso una vita per colpa tua Ma non vedevo il teletrasporto Kree allora Attento che lui ti fa tutto a sinistra Tu devi saltare i suoi tornado e poi avvicinarti Ok fai così Ok Chris è solo sprecato il tuo potere senza fare niente Quello... L'ultimo chi è? Metalman Si no accendino Accendino Bolle Bolle E' più facile di tutti Ti spara un paio di colonne e poi ti si arriva addosso Saltalo Salta Sento le cose Che poi le colonne di fuoco che spara sembrano quelle di Castlevania sai? No Non hai mai giocato a Castlevania? No non mi sei Ok sarà il prossimo giocatore che ti farò giocare Dottor Waifu Si va praticamente... sei un cacciatore di vampiri e vai contro i vampiri Dottor Waifu Dottor Waifu Bellissimo il Dottor Waifu Ciao Dottor Waifu Allora Che sta facendo? Tanto hai una tannica di benzina giusto? No non hai una tannica di benzina ok E vabbè dai Tu cercai di saltare Ce l'avevi quasi fatta dai Ce l'avevi quasi fatta dai Ce l'avevo fatta No è vero La tua anima è stata in strada nel tuo corpo e... E ascendeva al cielo Oh ca... Dottor Waifu che va arrivando Ah un altro testo vabbè Certo Stupido Dottor Waifu C'è il silenzio C'è il silenzio C'è il silenzio C'è il silenzio Questa è inquietante Attento Ok Palle 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 Non mi beccherete mai Cri Ti prego Cerca di essere Cri Cerca di essere più attento No più attento perchè non hai tannica di benzina Mi sta spaccando i timpani sto coso Minchia ma ti sciotta queste cose Sì Sì sono abbastanza... E vabbè dai cos'è? Sei dentro un vulcano? La lava? Scioglie il... Qualsiasi materiale sia fatto Ciao Dottor Waifu E levita come un Super Saiyan Stupido Super Saiyan Oh... No è un alieno Non ci credo che il Dottor Waifu sia un alieno No non penso che il Dottor Waifu sia un alieno È un alieno... No non lo colpisci con... Non lo colpisci Non lo colpisci Astarto Usa qualche altro... Usa l'Atomic Fire Usa il Fire Fire Accendino H Accendino inizia con H Ok non è quello Provene un altro Ah Ah Non hai bisogno neanche di saltare con Airman Non credo che il Dottor Waifu funzioni No neanche Ehm... Woodman Ok Ecco perché sono diventato legno Ricominci da qui Sì è abbastanza... Una rottura di coglioni Secondo me quello lì boh non lo so come bisogna farlo fuori Ehm... Non ne ho assolutamente idea Non è un elemento Forse devi schivare fino a quando non ti si scopre il culo Ahahahahah Il culo no a te Eh a te ti si deve scoprire il culo Ma come a me?! Tira giù il palle 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 Salve vorrei passare Grazie Non ti ricordo il livello di Digger T Un po' Quelle rocce si Quelle rocce si Giusto per i cuniculi 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 Cunicula Cuniculi 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 Stupido Superman Superman è un alieno Superman è uno scienziato che poi diventa un alieno Allora Muoviti Troverò un modo per farti fuori eh Vedete un uomo spaziale Uomo spaziale Uomo spaziale? Usa Flashman! Flashman! Prova a fermarlo Hai ragione No No Ecco non hai Non ne abbiamo più Magari gli oggetti Mi è stato tra molto male No neanche Ma non ti colpiva? Si che mi colpiva Ah ti colpiva Ah ti colpiva Non so più L'hai ben provato BOLLE BOLLE Non lo raggiungeranno neanche BOLLE Le bolle fanno male Le bolle gli fanno male Non l'abbiamo mai capito Perchè non l'abbiamo capito subito Perchè non ci arriva Perchè i Mars Attack non l'hanno mai attaccato con 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 l'acqua I martiani Dai Ah Ah E vabbè dai Adesso ricominciamo con Uomo bolla Altre bolle Bastardo figlio di B di bolla B di bastardo Ci penso io Uomo bolla Vieni qui Fin da subito Ma come fa una bolla a andare contro Vabbè Eh Di bollezze degli alieni no? Le bolle L'acqua Ah l'acqua Se uno va con le bolle di sapone vicino ad un alieno lo uscite Si è possibile Se ti sei appena lavato fa No non ti avvicinare Potresti uccidermi Ma io sono molto pulito E io sono sporco ok? Gli alieni son fatti così Sono veramente molto sporca Molto verde Sono proprio fatti così Gli alieni son fatti così È vero potrebbero farlo Sporchi verdi e gialli Gialli non li ho mai visti Dai questo è più o meno verde e giallo dai Dottor Wife Dottor Wife Guarda che rampega E' lampeggiante pure Vieni qui uomo bolla E' già uomo bolla Ecco fatti colpire fin da subito No Gris Non sprecare Per tua fortuna La bolla non Non spreca tanto energia Non ce l'hai una tannica adesso? No che non ce l'ho Ma non te ne da una gratis Ogni 60 continua Te la do io gratis Tipo Una tannica gratis Ogni 60 continua che fai Magari è anche uno scopo Wow Cristian Stai zitto Ma la tua capacità Di combattimento E' fuori dal normale Il tuo livello di combattimento E' oltre 8000 Fa schifo praticamente In confronto a Goku adesso fa schifo Sì esatto Però per un normale essere umano E' abbastanza Ti sembra essere umano io Ciccione Sei un ciccione Per un normale ciccione Avere una forza di 8000 accipicchia 8000 accipicchia Di 8000 accipicchia Conta anche accipicchia Certo Certo che conta anche gli 8000 accipicchia Perché proprio il tuo livello è 1 accipicchia 2 accipicchia 3 accipicchia 4 accipicchia Fino a rivelto 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 a rivel Ok, bravo, così. Ammazza questo essere così sporco. Bastardo. Io lo odio. Ma perché devo avvicinarmi con le bolle? Eh? Perché devo avvicinarmi con le bolle? È vero, potresti... Cioè, le bolle di sapone dovrebbero andare verso il sopra, non verso il sotto. Sono bolle metalliche queste? Penso. Bravo, quindi dai, ce la fai? Dai! Tanto poi c'è un altro boss. Ah, cazzo, è vero. È possibile. Dai, però ce la puoi fare. Basta non distrarsi. Stupido figlio. E adesso ci abbiamo un attacco epilettico. Oh, ecco cos'era. Dottor waifu. Eh, muovi? Puoi muoverti? No. Ok. Ragazzo lo gramma, sì. È un ragazzo lo gramma? Chi? Lui. Ah, ok. E adesso ti chiederà di risparmiarti la vita, sì. Uccidilo. Puoi muoverti? No. Ah, ok. Non puoi ucciderlo? No. Con le bolle? No. Nel dottor waifu è stato sconfitto. O si è arreso. Wow, ma cammina! Cammina! Cammina, no! E si trasforma. Adesso con il potere dell'accendino dà la fuoco a questo villaggio così prospero. Così. E questo è il finale. Mi piace anche la canzoncina. Oh. Adesso ha congelato il villaggio. Con... Che potere ha questo? Quindi alla fine bisognerà sconfiggere Megaman. E quello Bubble Man. Eh? Bisognerà sconfiggere Megaman alla fine. Ah, quindi fai un Megaman contro Megaman. È probabile. Cazzo, sto ammettando tutti. Ci sarebbe. Guarda! Il nemico peggiore è il nemico di se stesso. Guarda, sta allagando... Prima ha allagato tutto. Prima ha fermato tutto. Adesso si... Prima ha fermato il tempo. Ah! Ah, adesso è normale. Ah, ok. E lo guarda dicendo... Ma... Non dovevo fare qualcosa. Mi sono dimenticato. Avevo tanti piani in mente per questo villaggio. Si è dissolto Megaman. Ok. Ah, è vero. Hai presente Loot Crate? No. È una scatola che ti danno tanti regali della Capcom e altre cose. E c'era in regalo il casco di Megaman. Oh. Ed era fighissimo. Lo voglio anch'io. Eh, anch'io lo vorrei. Però vabbè. Questo era Megaman 2. L'abbiamo finalmente finito dopo una settimana di vacanza. Giusto? Eh, cosa vuoi che sia? Eh, vabbè. Cosa vuoi che sia una settimana di vacanza? Niente. Esatto, niente. Quick Man, Crash Man, Akira Yoshida. Sì, Akira Yoshida. No, numero 13. No, numero... No, numero 14. No! Cyborg. Sì, esatto. Cosa? Il Dottor G... No, come è? Il Dottor Wifo, Dottor Gelo. Il Dottor Gelo che dice ai androidi... No, numero 14. No, numero 16. Woodman, Masakud, Sfog, Wawawawa. Vabbè. In Huff King, questo era vinto. In Huff King. Pompon. 2 metri e 3 centimetri. Uambo, cos'è sta roba? Perfetto. Ak. Sì, sono bellissimi. Sono bellissimi. HMD. HMD, cos'è una malattia? Provarli. Ak, sì. Ak. Ehi, Kay. No. Possiamo chiudere la puntata, che sono troppo lunghi sti crediti. No, dobbiamo aspettare tutti. No, scherzo, non aspettiamo che finisca. Boh, un'altra serie conclusa. Un'altra possibile gioco che potresti consigliarci da giocare. Megaman 3. No, prego, niente Megaman dopo un altro Megaman. Megaman Zero. Non è più Megaman? Sì, sì che esiste. Ok. Ah, intanto abbiamo finito i titoli di coda. Felicità. Presented by Capcom USA. USA! USA! E perché tutti i nomi erano giapponesi? Bella domanda. Che cazzo, veramente? Puoi mandare avanti? No. E' fermo lì. Oh, difficult. Sì! No, scherzo! Basta, andiamoci. Dai, alla prossima puntata allora. Alla prossima puntata. Con? Non lo so. Ok. Quello che verrà, verrà. Vedremo allora. Ciao! 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 Grazie per la visione!